Oggi, perché chi mi conosce sa che per me divulgare un pochino la scienza o comunque trasmettere quella che per me e per molti altri come me è una passione e veramente un privilegio. Grazie a voi di essere venuti in questa giornata oltretutto di pioggia e di traffico. Allora, cercherò di spiegarvi qualcosina, cercherò di usare un linguaggio molto semplice e poi ovviamente sarò a disposizione per domande e chiarimenti. In questa prima trasparenza vedete bene il titolo della mia relazione e vedete delle foto aeree di tre rivelatori gravitazionali dei quali oggi capiremo qualcosina di più. Questo si trova in Louisiana ed è in mezzo a una foresta di alberi, poi se riuscirò vi racconterò quanti problemi questo ha causato. L'altro è in uno stato di Washington a Danford a 3000 km di distanza dal primo e poi il nostro rivelatore qui vicino a Cascina e vicino Pisa. Vi faccio vedere una foto migliore di Virgo, anche questa presa dall'alto, vedete questi tubi blu sono lunghi 3 km nella campagna appunto di Cascina e Ponte d'Era e tra l'altro sono visibili dall'autostrada se da Roma si va verso Pisa. Vorrei andare per gradi e cercare di farvi capire appunto un pochino meglio quello che c'è dietro e anche un pochino di storia. Il tutto diciamo che potremmo dire un miliardo e mezzo di anni fa. Un miliardo e mezzo di anni fa è successo questa, è un'immagine sicuramente molti tuoi avranno visto perché se ne è parlato tanto. Due buchi neri che stavano ruotando in orbita stretta un intorno all'altro hanno vissuto gli ultimi istanti, intendendo veramente meno di un secondo, di vita prima di congiungersi per formare un terzo buco nero. Badate sono masse molto grosse, ciascuno di due una massa come se fosse 30 o 40 soli e l'energia messa in questo fenomeno è stata pazzesca, ma sulla Terra non saremmo stati pronti a vedere nulla di tutto ciò, sulla Terra stava appena avvenendo la transizione tra forme di vita unicellulari a forme di vita multicellulari. Il segnale gravitazionale emesso da questi due oggetti ha iniziato quindi un viaggio che è appunto durato un miliardo e mezzo di anni. Vediamo noi come ci siamo preparati e quindi andiamo sulla Terra, molto più tardi ovviamente, mentre il nostro segnale sta viaggiando. Sulla Terra gli uomini, come facciamo tutt'oggi per fortuna, si interrogavano sull'origine della vita, su che cos'è l'universo, sulle leggi sulla Terra e tra questi ovviamente io sto trascurando molte persone che hanno dato contributi importanti, tra questi mi sono permessa di segnalare Aristotele, parliamo di appunto più di 300 anni prima di Cristo e Tolomeo invece 100 anni dopo Cristo. Beh sono state le regole, il pensiero di Aristotele ha dominato moltissimo perché come vedete 100 anni dopo Cristo ancora in realtà c'era qualcosa di comune. Guardate, io qui non voglio puntare tanto il fatto sull'idea di Aristotele e ripetuta da Tolomeo che la Terra sia al centro dell'universo e che tutto il resto di giù intorno, quanto su un'altra cosa molto importante, il fatto che le leggi che valgono sulla Terra sono diverse dalle leggi che valgono al di fuori della Terra. Quindi noi non possiamo capire nulla sul moto di questi astri attorno a noi lavorando con il nostro pensiero sulla Terra. In realtà tra Aristotele e Tolomeo c'è stata un sacco di storia, ci sono stati personaggi quali Aristarco che già avevano parlato di teorie elettriciocentriche anche motivandole molto importanti e cosa è successo? Perché 100 anni dopo Cristo invece ancora queste idee erano in vigore? Beh il sale su Cartagine, la distruzione portata su Cartagine ha travolto diciamo non solo l'agricoltura ma ovviamente tutto un tipo di cultura che è rimasta seppellita finché poi a anni intorno a 1400 d.C. Copernico non ha riscoperto certi scritti e praticamente diciamo che il filone si è riavviato. Veniamo a uno dei tre pilastri della gravità perché io menzionerò tre personaggi che sono stati appunto fondamentali alla nostra scoperta ovviamente Galilei, Newton e Einstein. Vi faccio vedere questo breve passo di Galilei nel suo famoso dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo che era appunto una discussione tra tre personaggi sulle teorie elettriciocentriche, teorie geocentriche ma nelle quali Galileo intanto pone proprio le basi del metodo sperimentale di tutto un tipo di fisica per noi oggi fondamentale. Vedete qui salviati che diciamo un pochino il personaggio edotto della storia e dice se qualcuno mi spiega qual è la causa del moto della terra io riuscirò anche a spiegargli perché e come si muovono Marte e Giove e Simplice gli risponde ma lo sappiamo tutti è la gravità. Cioè la gravità comincia per la prima volta in questo scritto di Galileo senza nessuna dimostrazione ad avere un ruolo fondamentale qui qualcosa che regola le leggi della fisica sulla terra ma anche al di fuori della terra.